Sono contenta. Qui sul pacco fuori c'è scritto ciao nonna Luigina. Ciao nonna Luigina. Poi c'è. Ma l'avrà scritta qualcun altro. Una caramella. Oh 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 grazie. Grazie la caramella. Grazie. Oh un'altra caramella. Grazie. Oh questo qui è proprio di miele. Va bene per la tosse. Grazie. Poi c'è una letterina che ha scritto nonna Luigina. Vedi? Questa poi la apro io. Oh ci sono anche due stelle. Sì. Eccolo dove sono le caramelle. Ah ecco che scappavano fuori. Poi abbiamo questo qua. Oh un bel pacchettino. Oh ma che bello questo. Ma che bello. Oh è veramente bello. Grazie. Originale. È originale. Originalissimo. Grazie. E anche un bel quadrettino. Bravo. Grazie. 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 Originale. Oh là là. Com'è bello. Com'è bello. Com'è bello. Com'è bello. Com'è bello. E quello lì. È la tovaglietta. Ah. Origina. Oh. Quando mangio qui tranquilla. Mi metto con la mia tovaglietta. Ma grazie. 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 Oh. Due tovagliette. Allora. Uno. Uno. Tè. Uno. Oh grazie. 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 Guardate. È caduta una caramella. Ma che bello. Ma che bello. Ma che bello. Grazie. Eh sì. Siamo in due. Grazie. 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 Guarda. Quando facciamo colazione mettiamo giù le tovagliette. Ma che bello. Un bacione forte. Ma sono proprio contenta. Grazie. 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 Oh. Guarda. È proprio. È proprio bello. Grazie. Si so com'è questo qui. Che bello. Guarda. Ma. Da appendere. E c'è il posto da metterlo dentro. Ma guarda. Sono contenta. Grazie. 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 Sono contentissima. Contentissima. Qui c'è scritto. Cara nonna. Luigina. Ti seguo sempre sul telefonino con il tuo amato nipote Davide. È bellissimo vedervi insieme. Portate tanta allegria e tanta gioia. Il tenero rapporto che avete mi ricorda molto il legame con le mie nonne. Purtroppo ma per fortuna ho ancora una nonna di 90 anni. Anche se la vedo molto molto poco. Perché io ho cambiato paese e città da qualche anno. Ma appena posso vado sempre a trovarla. A trovare i miei genitori e ad abbracciare la mia amata nonna. Oggi per te nonna Luigina è un giorno molto molto speciale. Questo doveva arrivare il compleanno. È arrivato un pochettino più tardi però. Tantissimi auguri di buon compleanno. Con tanto amore per i tuoi 85 anni. Ti voglio bene nonna Luigina. Ti faccio anche tanti auguri di buone feste. E buon Natale. A te e al tuo Davide. Ciao Davide. Goditi ogni singolo momento con la tua nonna del cuore. Il vostro rapporto di complicità è bellissimo. Tanti baci da Laura. Grazie. Hai scritto una bella lettera. Brava. Sei molto brava. Ti abbracerei forte forte. Grazie. 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 Sono parole sante. Grazie. 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 Ti voglio bene. Hai fatto una propria bella lettera. Io li tengo lì tutti. Ogni tanto poi li leggo la sera. Così prima di andare a dormire e dopo dormo tranquilla. Ciao. 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 Buon proseguimento dell'anno. Ti voglio tanto bene. Tante cose belle. Tante, tante, tante. Ciao. Ciao.